Musica Ti dicevo, tempo di premiazioni La squadra del triplete Dice, si fa presto quest'anno I standardi se li porta a tutti A casa lui, la Sir Safety, Conal Perugia Il presidente, Cino Sirci Eccolo qua, il timido Gino Il timido Gino, resta qui Massimo Perché devi premiare il timido Gino Gino, io Parlo a nome di tutto il movimento Avere Leon va bene per tutti Perché tutti dicono, beh, è arrivato Cristiano Ronaldo Alla Juventus, è bello per tutto il movimento Cioè non festeggiano solo di Juventini Quindi i tuoi colleghi sono tutti felici Che hai preso Leon, chiaramente Dopo ho fatto un silocismo In fondo sì, in fondo sì Penso che Sì, qualche diretto interessato magari Dice, ma questo è Però penso che Dobbiamo guardare un po' alla massa Al popolo, no? Alla moltitudine Penso che Gli astanti in questa stanza Avranno certamente Visto positivo Quello che noi abbiamo fatto Perché Che cosa succede? Ne va del movimento pallavolistico Italiano Penso che il calcio In questo caso La pallavolo Sicuramente avranno Diciamo Maggiore visibilità Si parlerà di più E quello Che bisogna fare Che lo che ha bisogno La pallavolo Ha bisogno di essere Molto Molto parlata Molto comunicata Allora La storia di Gino Sirci E di questa squadra di Perugia Probabilmente Molti di voi La conoscono Per chi ci guarda in streaming Per chi non la conoscesse È una storia che parte Dalla serie B Parte da Bastia Umbra Con questo signore Poi arriva a Perugia Dalla serie C Dalla serie C Dalla serie C addirittura Io già l'ho saltato Dalla B2 Dalla serie C Poi arriva a Perugia C'è la serie A C'è la 1 Poi la Superlega Poi ci sono le finali E una la perdi E un'altra la perdi E un'altra la perdi A quel punto può Venirti voglia Di buttare la spugna No Dici butto la spugna Perché Ho tanto investito Ho tanto coinvolto Non ho mai vinto E lì Vedete Il personaggio Gino Sirci No Non la butto La spugna E alla fine dico Che questi sono tre Successi meritati Gino Perché sono Figli della tua perseveranza Perché qualche volta Ti sarà venuto in mente Basta Non ce la faccio Tanto non vinco mai No Ma diciamo che No Ogni volta che Ero lì Che Pelo a pelo E ho pensato Mi ha diciamo Rinforzato Questo tipo di Però è possibile Sono arrivato lì Vedrai che ce la farò In ogni caso Quello che noi abbiamo fatto Quest'anno Veramente con grande sincerità Quelli che ho visto oggi Ieri sera Tanti ragazzi nuovi Tante facce nuove Presidenti Addetti stampa Eccetera Della serie A2 Che mi hanno salutato Con calore Auguro a tutti quanti voi A uno E a due Un domani Di vivere questo momento Che stiamo vivendo Che io sto vivendo Questa oggi Quello appunto di Davvero anche voi Vincere un bel triplete Perché È una bella Bella cosa Quindi Anche a voi Vedrete un giorno Se perseverete Riuscirete A fare Il triplete Il triplete E poi lo festeggerete Con sobrietà Lo festeggerete Soprattutto Con sobrietà Allora Arriva il primo standard È quello dello scudetto Signori fotografi La scena è tutta per voi Da Massimo Righi Amministratore delegato Della Liga Pallavolo A Gino Sirci Questo è lo scudetto Che va a fare Bella mostra di sé Nel nuovo Pallabarton Di Perugia Eccolo Il timido Il timido Gino Allora arrivano anche La Coppa Italia E la Supercoppa Poi in ordine temporale Arrivarono Supercoppa Coppa Italia Vuoi chiamare tutti? Recine Vujevic E Bino Rizzuto Dai tutti su Perché c'è Un tridente Goran Vujevic C'è in sala Io l'ho visto Sì sì Vuoi fare il timido Goran Michelangelo Le vittorie Non si fanno da soli Si fanno con gli staff E gli staff Sono quelli Che fanno muovere I motori Questa è veramente Una foto bella Perché ha aumentato Nel tempo Lo staff di Perugia Tutti hanno la loro competenza Tutti sono al lavoro Sono arrivati Tre standardi Il triplete Come riuscì a Modena Come è riuscito all'Inter Nel calcio Riesce a Perugia Nella palla a bolo E oggi è il giorno Di portare a casa Questi tre standardi Che Vanno dritti Sotto gli occhi Dei tanti tifosi Dei tanti sirmaniaci Dei tanti sirmaniaci Che stanno per riempire Di nuovo il pallabarton Allegro vino Dai Su Sta su Sta su Calma Abbiamo vinto Vino Non abbiamo Vino Abbiamo vinto Vino È la continuità Coran Bujevic Che ve lo dico a fare Campioni di tutto L'eleganza È Stefano Resine Però l'eleganza È Stefano Resine Un bel applauso Perugia Potete caricare il pulmino Non piace stare qua So che piace però Eccoli là Sì sì No se vuoi stare con noi Noi fai piacere No no Non ce la fanno a caricare il pulmino Non ce la fanno a caricare il pulmino Grazie a Massimo Righi Che tanto li troveremo Per le prossime premiazioni Grazie a tutti